quest'ultimo favorito partiti in questo momento i cavalli del premio brigadier gerard parte bene subito bulldozer che si porta al comando nei confronti di devolvido poi glenarn che si affretta per portarsi subito in posizione la terza è occupata in questo momento da prisoner of love che si è messo in scia brigante sabino fuori idee parziali in questo momento ti aspetto fuori ma comunque a contatto ha preso un bel incedere glenarn che adesso è il battistrada rispetto a bulldozer che ha spostato i suoi fianchi sempre prisoner of love in evidenza in terza corsia quarta posizione per devolvido all'interno di brigante sabino ti aspetto fuori in ultima posizione ma ripetiamo sempre a contatto con i primi cavalli che vanno ad affrontare la curva in questo momento senza che nulla sia cambiato c'è una sorta di fila indiana un po disordinata i sei partecipanti capeggiati da glenarn il favorito sempre in vantaggio nei confronti di aspetto fuori che ha recuperato molte posizioni e si è portato proprio a ridosso del leader in terza rimane prisoner of love in quarta bulldozer in quinta invece brigante sabino devolvido che chiude adesso il gruppo siamo in dirittura d'arrivo che è quella di pista grande con glenarn sempre davanti ti aspetto fuori che prova subito a premere ai suoi fianchi e passa anche il leggero vantaggio poco prima delle intersezioni delle piste brigante sabino che si posiziona alle spalle di questi due poi bulldozer con azione un po scomposta devolvido che si avvicina e lo stesso prisoner of love che però è rimasto un pochino più nelle retrovie con i cavalli che sono a 600 dal palo ti aspetto fuori attaccato all'esterno da brigante sabino ma soprattutto da devolvido questi tre che sono in diagonale in questo momento glenarn è rimasto un po sul passo stessa cosa ha fatto bulldozer con gli ultimi 200 metri da percorrere brigante sabino che va all'attacco di aspetto fuori e passa in vantaggio brigante sabino è passato ma non è riuscito a staccare ancora ti aspetto fuori vitale all'interno ci prova all'esterno devolvido quando siamo nei pressi del traguardo brigante sabino ha messo tutti d'accordo e vice bene la condizionata nei confronti di devolvido ti aspetto fuori molto vicini questi due ma nessun dubbio sulla vittoria di brigante sabino con torre sulla sinsella che apre così il pomeriggio per il training di al duino e stefano botti i colori sono quelli di mario sansoni la quota era quella di quattro generalmente reperibile sui vari bookmakers per brigante sabino vittoria numero tre in carriera in quattro corse disputate praticamente ha sbagliato solo il berardelli vince il numero uno nei confronti io credo ancora di devolvido ma qui serve ovviamente la mano del giudice d'arrivo per stabilire chi sia effettivamente secondo ti aspetto fuori che fa un corsone e arriva comunque a ridosso dei primi numericamente dal punto di vista ufficioso 1 al primo 3 al secondo 6 al terzo vince brigante sabino sulla strada verso il derby è tutto